Ragazzi aspettiamo che arrivate perché oggi sono un po' emozionato perché ho la persona a cui devo di più in assoluto perché io la gratitudine la conosco molto bene, la esercito anche nella vita e a Roberto devo moltissimo, a parte che è la persona più vicina a me in assoluto. Però vediamo anche Instagram se ci lascia, vediamo un attimo. Mirko, ti vedo qua. Eccolo, adesso entrerai anche in Instagram. Guardandoci in video, noi eravamo in vacanza in Sardegna insieme quest'estate ma tu sembra che sia stato al Polo Nord perché siamo black and white. Sì, esatto, non riesco a capire perché su, su, prova di nuovo a mandarmi la richiesta su Instagram, intanto arrivano le persone qua. Dice che richiesta l'ha inviata, mandamela tu, devi, mentre vi aspettiamo qua smanichiamo anche su Instagram. Beh sì, eh sì, eh sì, ti ho provato di nuovo. Mi devi mandare tu la richiesta, mandamela tu. Adesso te l'ho rimandata di nuovo. Vediamo che succede. Instagram fa sempre brutti scherzi. Sì, è un po' così tutte le volte. Allora, prova a uscire e rientrare, aspetta. Sì. Tanto, amici, assisterete a una bella diretta tra due persone. Ma fa sempre brutti scherzi. Io ho scelto tutte le volte che si parla. Ecco qua. Ok. Me l'hai fatta di nuovo. No, eccolo qua. Inviata richiesta, richiesta inviata. Eccolo qua. Invio richiesta e io te la mando. E dovrebbe, dovrebbe riceverla adesso. Dovrebbe andare adesso. Stessa procedura che ho fatto ieri. No, lunedì. Funziona così, non capisco. Niente. Niente. Roberto Re non può partecipare. Ma perché? Ah, ma forse me l'hai dato. Tu mi segui? Perché io ho cliccato il segui su di te. Ce l'ho, ho controllato. Ce l'hai, segui? Sì, segui già. E dovresti controllare se tu mi segui. Perché se non mi segui è malissimo. Adesso controlliamo anche questo. Trasmetti in diretta. Magari non hai mai messo il click su segui. Eh no, ti seguo, nel senso che... Abbiate pazienza amici che arriviamo, eh. Vi ripagheremo con moneta interessante. Non appena... Non appena... Ci ha dato la... Ti ho rimandato la richiesta nel frattempo. Qua era un po' se... È arrivata, sì. Ma io... Ti autorizzo. Ti autorizzo. Ti autorizzo e invia richiesta. Te lo invio a te. Poi mi viene fuori quel banner lì sotto. Amici... Non so che dire. Non so che dire neanch'io. Ma tu hai controllato che mi segui su Instagram? Perché magari non hai sempre... Non ho controllato, ma... Vai un attimo, devi cliccare. Allora, blocca un attimo la diretta. Perché intanto se non riusciamo a... A blocco? Blocca un attimo la diretta. Vai su roberto.re.hrd Instagram, guarda se mi segui, perché forse non mi segui e magari se non mi segui non... Roberto.re. Eccolo qua. Ti seguo, sì. Segui già, quindi segui già. Ok, proviamo a rifarlo, guarda un attimo. Provo a rifarlo. Ok. Rifai partire la diretta? Sì, 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 sì. Faccio partire la diretta, indiretta. Tanto... Ecco. Salutiamo Fabrizio Nardin, mitico, che ci sta seguendo. E che ha dovuto inviarci. Un po' di prosecco deve inviarci. Esatto, Fabrizio, un po' di prosecco. Un po' di suga. Adesso si sta rimettendo suga da Giappone, quindi... Ecco, verifica la connessione e... Ho fatto partire la diretta? Ho fatto partire la diretta. Vediamo se... E se no, pazienza, la facciamo solo qua. Non so che fare perché se... Ragazzi, intanto scrivete da dove siete, di cosa vi occupate e poi cominciamo a dibattere con l'amico Roberto che... Ok, richiedo di partecipare, vediamo se questa volta la becca... Bisualizza la richiesta. Roberto Re desidera partecipare a questo video in diretta? Trasmetti in diretta con Roberto Re. Mi sembra che sia... Cioè, voglio dire, no? La cosa più semplice del mondo. Ma sembra che non lo sia. Non dà segno di vita. Sembra che non lo sia. Mi dà richiesta inviata. Vuoi provare tu a vedere se... Puoi tu fare la richiesta. Se clicchi su... Su di me... Te l'ho fatta, te l'ho fatta anche quella. Te l'ho fatta anche quella. L'ho rifatta nelle due versioni. Non si riesce. A me non arriva nessuna richiesta. No. Che strano. E' la seconda volta che mi succede questa cosa qua. Che non si riesce a... E non riesco a capire che tipo di motivazione. Perché selezionato, sei selezionato, inviata richiesta, inviata richiesta. Però direi che a questo punto... Lo lasciamo lì. Lo lasciamo lì. Intanto vedono me. Sentono anche la tua voce. Vedi, ecco qua. Sai cosa puoi fare? Cosa? Cosa dici? Roberto Reno può partecipare. Sotto il banner. Sai cosa puoi fare? Gira il telefonino verso lo schermo. E così trasmetti noi due dallo schermo. Esatto. No. Gira proprio in modo che... Sì, sì, sì. Gira la telecamera e facciamo così. E' una roba un po'... Eccola qua. Un po' la sfida in Dio, ma... Eccolo qua. Eccolo qua. Ok. Ci siamo in una forma... Allora, siccome Instagram non voleva farci andare in diretta, noi ce l'abbiamo fatta lo stesso. Sono qua con Roberto Recco. Come vi dicevo all'inizio, una delle persone a cui sono più legato nel mondo della formazione e è una delle persone alle quali devo molto. Perché i primi passi nel paico li ho mossi dieci anni fa nei suoi fly. e quindi... Ma non siamo... E anche alla mia Academy, tu venivi... All'Academy, esatto. All'Academy. Insomma, sostanzialmente ho sempre visto veramente Roberto come una persona di riferimento, in assoluto. Quindi siamo stati sempre vicini, ma l'ho sempre visto professionalmente. Quindi Roberto è la persona più preparata su quelle che sono la crescita personale, gli skill di crescita personale. Tantissimi hanno provato a emulare, diciamo, il discorso, ma ha costruito una rete infernale. Quanti anni... Da quanti anni, Roberto? Da quanti anni? Allora, a gennaio prossimo, a fine gennaio prossimo, Caredì compie 30 anni. Pazzesco. Da 92 anni. E sei giovane, sei giovane, sei... Cerco di tenermi bene, Mirko, qua. Bisogna fare sport. Questo è vero. Questo è vero. Bisogna tenere botta. Esatto. E io mi ricordo che le prime volte che io venivo da te trovavo delle persone che avevano uno stato, veramente uno stato di picco, no? Uno stato di emotività, uno stato di attenzione che non ho mai visto da nessun'altra parte. Cioè non ho mai, ma veramente mai, trovato un pubblico, tra virgolette, così caldo. Ok? Nel senso che è lì, è frutto di chi sta nel palco, di chi crea la magia. Io di solito arrivavo al Power il quarto giorno e mi dicevi, guarda che sono caldissimi e c'è vero. Anche il quinto o il sette, a volte venivo l'ultimo giorno che era già... Sì. Avevi strada in discesa. Sì, ma soprattutto c'era energia che ti portava, ti sollevava da terra. Beh, diciamo Mirko che, insomma, parlare di sé è sempre un po' scomodo, però credo sia uno dei miei principali talenti di quello che faccio, della capacità di coinvolgere le persone, ma non coinvolgere nel senso di, no, yeah, yeah, stile convention, di, 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 network marketing di una volta, ma coinvolgerli proprio nel senso di riuscire a far capire alcune cose che sono fondamentali, secondo me. Uno, appunto, che se non metti energia in quello che fai, e questo vale anche per l'apprendimento, no? Quando noi siamo coinvolti, ci piace qualcosa, siamo attenti, c'è, c'è un livello di partecipazione, di presenza mentale, di presenza fisica, emozionale, totalmente diversa rispetto a quando siamo totalmente distaccati ed emotivati. Quindi, credo che la mia capacità sia, uno, vabbè, ho la fortuna di avere persone che quando vengono a lavorare con me lo scelgono, non è scuola dell'obbligo, e quindi hanno delle motivazioni di base, e riuscire a farli vedere che quello che stiamo facendo è veramente importante e può fare la differenza per loro, e quindi riuscire a coinvolgere in questo senso. E poi, tu mi conosci, io e te abbiamo in comune il fatto che ci piace divertirci in quello che facciamo, insomma, siamo, diciamo, comunicativamente, siamo stati anche un po' aiutati da cultura, sin da ragazzini, probabilmente eravamo così, e quindi a me piace, insomma, coinvolgere persone, giocarci un po', alleggerire anche quelli che possono essere argomenti estremamente importanti, estremamente impegnativi, perché il fatto che un qualcosa sia importante e impegnativo non deve essere necessariamente pesante, perché quando affronti la vita con pesantezza, alla pesantezza non ha mai aiutato nessuno ad andare via più veloce. Quindi questo sicuramente è una delle cose che da sempre cerco di fare, le persone lo apprezzano moltissimo, e come hai detto tu, riesco una volta a stare lì 12 ore di fila, e uscire alla dodicesima ora quasi meno stanchi di quando sono entrati, quando andavano a scuola, dopo un'ora e mezza erano già distrutti. A dimostrazione di come, se i nostri insegnanti venissero formati a insegnare come si deve, o come si dovrebbe, probabilmente i nostri figli andrebbero a scuola con un atteggiamento diverso e otterrebbero risultati differenti. Sì, ma ripeto, tutti i tuoi, il tuo percorso che hai fatto e la serie di incontri a cui io ho partecipato, di base hanno un pubblico, veramente, e io i fly che tu hai li ho girati tutti, no? Quindi conosco molto bene la tua struttura in Italia. Tutto pubblico molto, molto in attenzione, molto coinvolto, molto affamato, cioè non ho visto nessuno dismonato per usare un tecnico. Quindi vuol dire che... Da un lato perché siamo bravi, da un lato perché le cose che facciamo e gli argomenti sono importanti, dall'altro perché diamo strumenti importanti, e anche perché, devo dire, sinceramente, è veramente un ambiente di qualità. Sono contento che dici questo. È come quando vai in una palestra, ci sono palestre dove la gente va per far l'aperitivo e palestre dove entri e si sente subito che lì la gente si allena ed è un risultato comune, no? Sicuramente arriva dall'alto, sicuramente è dovuto dall'organizzazione, dai trainer e così via, dall'ambiente, da tutto. Quindi devo dire, se noi riusciamo a fare questo e devo dirti portiamo dei risultati pazzeschi. Lo sai, ti dico una cosa che non ti ho detto che sia stato, mi sono scordato. Abbiamo fatto tutte le statistiche sul nostro percorso fly. Per chi non lo sa, noi abbiamo più di 35 scuole in tutta Italia, anche se adesso lavoriamo prevalentemente online, però abbiamo comunque un referente di zona e quando possibile organizziamo anche ovviamente incontri live da vivo. E noi monitoriamo costantemente i risultati dei nostri allievi. ti do un dato incredibile, Mirko. Allora, più dell'80%, più dell'80%, adesso non ricordo il dato esatto, ma mi sembra 83-84%, dei nostri studenti, dopo quattro mesi di percorso, il percorso dura un anno, è come andare un anno in palestra, dopo quattro mesi, ha migliorato mediamente del 30% sugli obiettivi che si è previsato. Ora tu lo sai meglio di me, migliorare già del 10, 15, 20%, perché adesso migliorare la gestione del proprio tempo del 10%, vorrebbe dire almeno avere un'ora, un'ora e mezza di tempo e più al giorno, del 20% vuol dire tre ore al giorno, cioè o migliorare la mia comunicazione del 20%, o il mio rapporto con il mio team, o la gestione del mio status, sarebbero già dei risultati esagerati. Più dell'80% che supera, il 30% di miglioramento vuol dire che la maggioranza va oltre il 50%, sono risultati che, tu lo sai, non si trovano in tutta Europa. Oh no, assolutamente. Non è il programma che genera risultati di questo tipo. E questo perché non è un corso, è un percorso, è come dire, questo è il percorso, se tu cammini, ci sarà chi arriva due giorni prima, chi arriva due giorni dopo, ma se ti metti nel percorso, ti lasci un po' guidare, non è possibile non arrivare dove vuoi andare. Quindi abbiamo strutturato le cose così bene in questi anni, che veramente ci sentiamo di garantire risultati importanti e le persone, insomma, ce lo riconoscono moltissimo. Sì, riesci a far uscire le persone da quello che tu ami come termine, da quella zona di comfort e riesci a farle mettere in discussione, a lavorare sulle stesse. E poi, diciamo che la palla me la passi, perché molti imprenditori sono poi venuti a una formazione tecnica con me, sostanzialmente, però prima hanno fatto un lavoro di base. con te, no? I miei tuoi lavori sono assolutamente complementari, perché io lavoro sulla mente, soprattutto, e tu lavori soprattutto sulle strategie. Esatto. Ora, Anthony Robbins dice sempre che in ogni attività il 20% è tecnica e l'80% è psicologia. E questo è sicuramente vero. Io posso avere tutte le migliori strategie del mondo, ma se non sono, se non ho la testa giusta, se ho una giusta mentalità, se io vengo da te a imparare tutte le strategie, ma poi tratto male i miei collaboratori, perché sono zero consapevole della mia comunicazione, ho gestito malissimo lo stress e lo scarico sulla gente intorno a me, c'è poco da fare, il mio team non sarà motivato, le persone non lavoreranno bene, in quell'ambiente non si lavorerà bene, e inevitabilmente poi i risultati seguiranno. Quindi, e soprattutto in un mondo come quello in cui viviamo oggi, la difficoltà numero uno è gestire noi stessi. Tu sai benissimo che il mio primo libro si chiama L'idea di te stesso, e secondo me come titolo è quanto mai più attuale, nonostante che questo oramai abbia più di 15 anni, però è più attuale adesso rispetto a quando l'ho scritto, perché oggi la capacità di gestire se stessi con tutte le pressioni che abbiamo, tutti i cambiamenti che stiamo vivendo, tutte le cose che anche sinceramente in alcuni casi non riusciamo neanche a spiegarci, perché alcuni provvedimenti sono veramente ridicoli, ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere, in piedi al bancone, sei ok, se ti siedi nel tavolo un metro di fianco non sei più ok, cioè delle robe che se ce le avessero raccontate due o tre anni fa non ci avremmo potuto credere, e invece questo è il mondo in cui viviamo e quindi ti ci puoi arrabbiare finché vuoi, io e te abbiamo visioni molto comuni su questa situazione, non è che ci piaccia un gran che, però poi alla fine devi trovare delle soluzioni e intanto questo è quello che hai a disposizione e devi comunque portare a casa un risultato, poi se hai possibilità di cambiare quello, di far sì che magari, che ne so, la tua protesta a genere dei risultati, fallo, ma comunque dovrai in ogni caso adattarti alla situazione che hai e tirar fuori il meglio che puoi e quello è quasi sempre molto più una questione di testa, di gestione della propria emotività rispetto a, rispetto alle strategie. Un altro aspetto importantissimo che tu hai, insomma, negli ultimi anni iniziato a applicare molto nella tua vita è che siamo degli imprenditori, ci facciamo un mazzo così, ci piace anche, diciamo la verità, perché poi la maggior parte di noi gode quando fa quello che fa, piace ottenere risultati, non ha difficoltà a sacrificarsi, però questa mentalità spesso si traduce in un poco equilibrio nella vita privata, la più grossa difficoltà che hanno imprenditori e professionisti è avere un equilibrio fra vita personale e vita professionale. Work balance life. Se avere successo significa poi a 45 anni essere 30 kg di sovrappeso e dimostrare 20 anni in più, sinceramente credo non ne valga la pena, no? E quindi, anche quello però è una questione di testa, perché è troppo facile dire non ho mai tempo, come sappiamo il tempo si trova quando un qualcosa è importante e quando c'è la motivazione. Il punto è che è una questione di testa, di gestione delle emotività, di gestione anche lì dello stress. E quindi tutto questo ha un valore enorme. Credo, credo Roberto, che con l'imprenditore master il 23-24 ottobre e tu sarai ospite di super, super guest, diciamo, cioè ho l'intenzione, vedi anche quanto siamo io e te simili a questo. Quando hai detto fai un evento con grandi formatori, grandi imprenditori e professionisti, ma perché ci vuole tutto, cioè uno deve prima formarsi, deve frequentare persone giuste, deve avere professionisti verticali, schillati, ci vuole tutto nella vita e ci vuole soprattutto quello che dicevi tu, equilibrio. Quindi ragazzi che state vedendo una vita fuori equilibrio alla lunga non è sostenibile nel tempo. Certo. Quando sei fuori è come un'automobile, Se tutto il peso è da una parte e va, 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 ma a un certo punto salta. Quindi noi abbiamo la responsabilità sia nei confronti nostri in primis, ma anche nei confronti di quello che facciamo. Perché se ti arriva un infarto a 49 anni non è che la tua azienda ne giova, il tuo business ne giova, il tuo studio ne giova. Quindi non è saggio né nei confronti del business e ovviamente nemmeno nei nostri confronti. Assolutamente sì. E il 21, il 21 alle ore 21 di settembre tireremo sul sipario. Roby, quando nelle sponsorizzate dico ci saranno miliardi di euro, non mi conoscono, no? E dicono sì, miliardi, sì, miliardi. Allora dico fai la somma consolidata solo due. Sono stato a cena a casa tua in Sardegna e davanti a me c'erano due imprenditori che messi insieme facevano un miliardo. E poi c'eravamo i te che eravamo gli spiccioli. Il virgola. No, ti ho fatto più di me. Cacchio, tu no, 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 agli imprenditori quello che tu hai detto proprio adesso che magari non è importante avere il fatturato più alto del mondo o avere l'EBIDA più alto del mondo. È importante essere più felici di molti altri. Questa è la vera ricchezza in assoluto. Ma anche perché il lavoro non è un fine, è un mezzo. Esatto. Il nostro lavoro, la nostra attività dobbiamo ricordarci che è un mezzo e lo facciamo perché ci dà soddisfazione, perché vogliamo stare bene. Quindi se il mezzo mi fa stare male o inizia non dà più soddisfazioni, mi genera soltanto stress o mi toglie dai miei figli e dalla mia famiglia troppo rispetto a quello che vorrei. C'è qualcosa lì dentro che non basta, sbagliando tutto. Sono diventato schiavo del mezzo invece che il mezzo schiavo mio che mi deve portare dove io voglio. È certo. Bipop Clara che scrive quando si hanno idee ma non i capitali da investire. Beh, non ci sono mai stati come adesso momenti e canali di finanziamento. Quando siamo partiti io e Roberto sicuramente non avevamo le possibilità che oggi ha uno start-upper che ha una cosa. Quindi oggi le idee vengono pagate molto bene. l'importante è che sappiate rappresentarle bene perché la prima cosa che dovete avere è un business plan è un modo di raccontare e anche qua vedete torna la congiunzione tra me e Roberto. Tu devi impattare emotivamente su chi ti deve finanziare. Devi piacere. C'è della gente che ha delle belle idee eccetera ma non sa raccontarle ma non sa creare chimica con la controparte e anche gli investitori hanno chimica vengono portati verso coloro di cui si fidano di più e quindi ci vogliono ci vuole la preparazione crescita personale e ci vuole la preparazione professionale. Le due cose sono insieme. Sapete io domando Roberto la comunicazione una volta anni 70 anni 80 era definita una delle soft skills soft skills in inglese vuol dire le abilità soffici delicate. Oggi la comunicazione è un'arma di distruzione di massa lo stiamo vedendo ogni giorno tramite i nostri meravigliosi media ed è lo strumento numero uno attraverso il quale abbiamo successo perché la sua idea può essere bella quanto vuole il suo progetto può essere bello quanto vuole può avere già in mano un qualcosa che ha un valore immenso ma se non lo saprà comunicare non troverà mai nessuno che gli darà credito e quella roba lì rimarrà in un cassetto per i prossimi cent anni. E tu mi hai insegnato anche un'altra cosa tanto salutiamo il cavaliere del lavoro Enzo Muscia che già che ci sta seguendo ti mi hai insegnato un'altra cosa come capire le persone come classificare le persone velocemente tutti noi abbiamo bisogno dei partner nella vita professionale nella vita privata ma se riusciamo a capire prima possibile come sono veramente sbagliamo meno ed errori ne ho fatti io ed errori ne hai fatti tu ed errori ne ne hanno fatti tutti ma anche lì bisogna capire esattamente di chi fidarsi qual è il confronto delle scale dei valori il confronto ecco hai usato un termine con una spiegazione ma che a me non piace moltissimo non è che dobbiamo catalogare le persone o inquadrarle in un'etichetta però una cosa che dobbiamo imparare a fare assolutamente è capire le persone capire quali sono le loro motivazioni cosa le guidano quali sono i loro valori primari quali sono le loro convinzioni che gli aiutano a essere migliori e quelle che invece limitano quali sono i loro bisogni principali che cosa cercano perché solo se sappiamo fare questo noi possiamo arrivare alle persone vale per i clienti e lo sappiamo benissimo se tu non capisci qual è il loro bisogno da soddisfare non potrai mai in qualche modo arrivare col tuo prodotto col tuo servizio ma vale anche e ancora di più per i collaboratori avere collaboratori motivati non è una fortuna è la naturale conseguenza di una capacità di gestione di un team non è che capita a caso sai quelle frasi tipo i giovani d'oggi non sono più motivati come una volta ma che cazzata non è vero hanno diverse motivazioni quindi se riesci a capirle intercettarle a far sì che stare con te e lavorare con te sia via quel tipo di soddisfazione possa soddisfare quei bisogni quella persona starà fino a mezzanotte a lavorare con passione con impegno perché è contenta e felice di farlo se no non vedrà l'ora di scappare via come un ragazzino a scuola quindi questo è questo si impara questa è arte non è casualità è un qualcosa che si può imparare eh sì eh sì e poi il grande un'altra delle cose molto importanti eh che potete imparare da noi due è il grande equilibrio fra la crescita personale e la crescita professionale le due cose vanno di pari passo non credete perché se voi non crescete dal punto di vista personale poi il salto la capacità l'energia la centratura il fatto di stare cioè io a 58 anni do la stecca a moltissimi cacchio perché lavoro sul mio corpo sulla mia testa sulla mia energia sulle mie cose e devo dire Mirko tu lo sai su questo per me sei stato molto importante quando sei riuscito a farmi passare cioè è stato facile quando me l'hai detto mi hai illuminato il concetto dell'imprenditore che deve essere inutile e quella roba lì per me ha cambiato mi aveva cambiato totalmente la vita mi ero resso ma tu hai una qualità di vita strepitosa adesso veramente ero nella ero nella in una gabbia dorata per carità non mi sono mai lamentato a me piace quello che faccio però ero veramente a un certo punto diventato schiavo e tu mi avevi detto mi ricordo tu te lo ricorderai quella volta che eravamo a pranzo anche dove eravamo esatto sai che sono stato peraltro recentemente la tante non tornavo e tu e io era luglio era prima di andare a vacanze dai vediamoci facciamo ci raccontiamo un po' come è andata era un po' che non ci vedevamo io sono arrivato bello gonfio perché all'anno di tutti i miei record avevo stabilito il record di fatturato di tutto tutto ti ho raccontato con grande orgoglio come facciamo noi tra uomini con l'amica a cui ci tieni i tu i grandi risultati e tu mi hai fatti i complimenti hai detto bravo Roby che anche nessuno fa strada qua come te fa e poi mi ricordo che ho detto però posso dirti una cosa faccio dimmi stai sbagliando tutto e io mi ricordo prima di quella mi hai detto questo quando ti arriva uno schiaffo e mi hai detto ma che cacchio sta dicendo gli ho appena detto che sta andando tutto come non è mai andato così bene e tu mi dici guarda l'unica cosa che vedo è che stai ottenendo gli stati pazzeschi ma sei sempre più in prima persona sei sempre più indispensabile per questa cosa nel tempo e mi ricordo quella chiacchierata come una delle delle chiacchierate più importanti della mia vita che mi hanno permesso veramente le riflessioni che ho fatto quella notte in cui non ho dormito e sono stato tutto il tempo così a guardare non è una una stupidità un'adrenalina addosso in circola pensare a tutte le cose lì che non riuscivo a chiudere occhio quella cosa lì mi ha cambiato insomma moltissimo la prospettiva ed è davvero cambiata in tanto in meglio perché poi il discorso quando inizi a vedere è quello che io faccio con le persone Mirko quando tu aiuti le persone a essere più consapevoli a vedere quello che non vedono a notare quello che non notavano a comprendere quello che prima non comprendevano salvo a un livello superiore quando sei a un livello superiore vedi tutto da un'altra prospettiva dai significati diversi e trovi situazioni diverse se fai cose diverse e cambia tutto se poi in più hai anche gli strumenti ovviamente questo fa ancora di più la differenza volevo dirti che noi su Instagram stiamo vedendo il tuo il tuo purtroppo ci siamo arrangiati così se tu scrivi su Whatsapp capisci che la gente lo vede più e si fa i faticoni qualcuno tornerà lì ingrandirà e se c'era qualcosa di pericoloso sei rovinato allora una delle cose più interessanti in assoluto è l'ampliamento dei nostri perimetri esperienziali o la provocazione di riflessioni io spesso e volentieri ieri sera ero di fronte a 100 imprenditori ad Ancona e gli ho detto una riflessione che dovete fare è questa da quanti anni lavorate da quanti anni lavorate qual è il vostro stipendio e qual è il vostro patrimonio tre domande sono domande che mettono in croce ma perché l'imprenditore deve ragionare deve vedere se la strada è quella giusta perché se dopo dieci anni o vent'anni e questo purtroppo succede guadagna meno dei suoi collaboratori c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non funziona e allora questo fatto di crescere come uomo e come imprenditore torna ancora una volta sei cresciuto come uomo sei cresciuto come imprenditore stai facendo perché non siamo mica fatti tutti quanti per fare gli imprenditori non è che c'è un obbligo la testa va visto esattamente quello che vuoi fare nella vita e su questo c'è molto da lavorare perché in Italia le micro imprese le piccole imprese sono veramente troppo frazionate da questo punto di vista il piccolo imprenditore troppo spesso si droga con la sua passione si droga con lo stare lì e passare le ore per migliorare quella vita perché quella vita è lì perché lui è ancora magari dentro di sé quell'artigiano che aveva iniziato vent'anni fa e quello è bellissimo è quello che permette di mettere amore passione in quello che si fa e non è una cosa che va persa però se fai l'imprenditore il primo strumento attraverso cui si valuta come tu vai come funzioni sono i risultati sono i numeri è l'ultimo numero in basso a destra del bilancio è il numero del tuo conto corrente che c'è nel tuo conto corrente è il tuo patrimonio perché quello è il risultato poi finale cioè come hai gestito tutto quanto e come stai gestendo tutto quanto quindi non è una questione di essere materiali materialisti e pensare solo ai soldi che i soldi sono uno strumento di misura nel business poi non sono fine anche quelli sono un mezzo però ma c'è ragione mi faccio un mazzo così perché cosa per avere comunque le possibilità per poter anche un po' a un certo punto godermi ai miei figli una vita diversa e poter star meglio è quello che è quello che cercheremo di fare nella conferenza di due giorni il 23 e il 24 ottobre avremo 15 ospiti Roberto sarà la star assoluta e abbiamo tre tipologie avremo gli imprenditori grandi imprenditori ai quali chiederemo dichiarazioni forti abbiamo i professionisti e spiegheremo cosa vuol dire essere verticali e i formatori i migliori formatori le persone che secondo me possono dare più contributo queste tre categorie possono rendere una due giorni veramente importante il 21 di settembre parlerò di tutti i nomi uno per uno e con tutti quanti ho un rapporto personale io e Roberto non è che abbiamo mai millantato ho nolleggiato ho preso a prestito cose da terzi sono tutti contenuti che abbiamo generato che abbiamo creato Roberto più di me perché o che abbiamo preso da terzi perché io ho avuto i miei maestri io ho lavorato ad esempio con Anthony Robbins per anni e tanto di quello che insegno l'ho imparato da lui e non l'ho mai nascosto ma poi il solito discorso il conto è quando tu prendi un contenuto e scignotti o quando diventa tuo nel momento in cui è diventato tuo e lo rielabori e lo vivi in prima persona è tuo cioè nessuno inventa niente cioè da zero quindi ognuno ha avuto i suoi maestri e continua ad averli sia intelligente perché bisogna sempre guardarsi intorno imparare da tutti copiare in senso buono da tutti nel senso che quando uno ha delle buone idee o ha delle buone intuizioni vengono messe in automatico a beneficio dell'umanità soprattutto oggi che abbiamo i social network attraverso i quali si sa tutto di tutti in qualsiasi parte del mondo però l'importante appunto è e poi quanto quelle cose sono diventate nelle tue cellule non sono soltanto qualcosa che ti sei appiccicato addosso come un post-it sai che leggevo qua nei commenti c'è un ottico che dice che mi segue dal 2004 la prima volta con una rivista era la rivista Men's Saint credo eh perché all'epoca c'erano ancora sei le riviste tiravano eravamo fatto questo prima su Milione poi su Men's Saint lo sai che ancora c'è gente che quelle quelle robe che mettevamo in allegato le ascolta ancora adesso me ne parla ancora adesso quindi aspetta che fa la domanda dice qual è la leva che dopo tutto questo tempo non ti ha mai fatto non ti ha fatto rimanere tanto tempo in questo settore cioè che mi ha fatto rimanere in tutto questo settore beh la passione a me piace quello che faccio mi piace mi dà soddisfazione devo dire nell'ultimo anno e mezzo meno perché le modalità e tutto quello a cui si è obbligati di certo insomma fa fare più fatica ma non ma la passione è mutata il piacere insomma è la mia droga quando io non quando faccio molti molto sono drogati di palco io no cioè a me piace mi diverto ma a me la mia droga è quando invece le persone ottengono i risultati quando incontro qualcuno che mi racconta che grazie a quel seminario grazie a quel programma grazie a quel percorso in autocon e poi è successo quello quella è la cosa che a me dà soddisfazione di tutti quindi quella roba per me ha un valore immenso è una benzina importantissima e per quanto riguarda Filippo ti chiede come abbiamo visto il cambiamento del mondo dei tuoi tempi ad oggi riguardo i titoli di studio ad esempio mi sembra evidente una volta il titolo di studio garantiva qualcosa oggi il titolo di studio non garantisce più nulla in alcuni casi voglio dire tu pensa a quelli titoli di studio se tu ti laurei in informatica quando hai finito di studiare buona parte di quello che hai studiato è già diventato vecchio hai passato anni il problema ancora soprattutto da noi dell'università nostra è che è ancora troppo teorica per carità è importante che ti dà una cultura però se io vado a fare scienza della comunicazione conoscerò tutta la teoria della comunicazione ma non sarò un bravo comunicatore non avrò dato un esame dove devo dimostrare di saper comunicare dovrò andare poi a fare corsi di public speaking per imparare a parlare in pubblico perché la teoria da sola la teoria senza applicazione non trasformata in azioni concrete non genera risultati quindi purtroppo è questo scontro costante tra il mondo accademico e il mondo poi reale che esiste da sempre quindi io credo che sia sempre importante studiare e avere cultura in genere a prescindere però oggi la formazione fuori dal mondo accademico al lato pratico genera molti più risultati è indubbio questo Filippo Marchezone dice entro quanto tempo si ipotizza che tali informazioni vengono insegnate anche ai giovani a scuola guarda io vent'anni fa almeno già dicevo che quello che io insegnavo dovrebbe essere insegnato a scuola passati vent'anni non è successo niente tu pensa che non fanno neanche un'ora di comunicazione in tredici anni di scuola dell'obbligo io ho un po' girato il mondo ho vissuto anche all'estero per alcuni anni ho vissuto a Dubai mio figlio ha fatto scuole internazionali lì devo dirti che noi siamo veramente messi male purtroppo noi italiani siamo autoreferenziali pensiamo che il mondo siamo noi è un po' quello che sta succedendo adesso pensiamo che tutto il mondo usi il Green Pass no esiste soltanto da noi in Francia e in altri due paesi al mondo però siamo credenti che tutto quello che noi facciamo è quello giusto è la cosa migliore per carità lo era probabilmente duemila anni fa che eravamo gli unici ma non è più così e devo dirvi che girando il mondo da un punto di vista di scuola di istruzione siamo veramente messi malissimo cioè è brutto dirlo mi spiace dirlo mi spiace dirlo così non voglio apparire polemico senza motivo però è davvero una tristezza guarda solo che entrare nella scuola di mio figlio e vedere i principi base della scuola che sono i principi attraverso i quali gli studenti vengono valutati che non è soltanto se sai ripetermi la lezioncina come dovrebbe essere ripetuta ma in quella scuola c'era tutta una valutazione in base alla loro capacità di interagire con gli altri in base alla loro creatività in base alla loro abilità di problem solver in base alla loro abilità di contribuire di essere una fonte di energia positiva anche per gli altri e di fare cose per gli altri insomma c'erano dieci criteri che non avevano niente a che fare con lo studio ma con la persona che lo studente stava diventando e costante valutazione su quello questa è una roba è una roba bellissima che che noi prima che succeda noi figurati eh sì cosa è cambiato nella vostra vita quando avete iniziato a guadagnare i primi soldi e cosa avreste fatto diversamente una volta iniziato a guadagnare e io la mia risposta è facile allora quando ho iniziato a fare i primi soldi non c'era l'educazione finanziaria chiosati bardolla siti internet quindi cosa fa uno abbastanza giovane appena inizia ad avere un po' più soldi in tasca li sperpera e li butta via appunto quindi finché un giorno ti guardi c'è l'inconveniente devi spendere quello che non ti aspettavi di spendere e dici com'è che è arrivato dove sei conveniente e non ho un soldo c'è qualcosa che non va qui dentro ecco quindi questo è quello che io ho fatto con i primi soldi non so Mirko anche tu magari probabilmente sei stato un po' più un po' più sono sempre stato parsimonioso sempre insegnato invece io tu che sei veneto dovresti essere lo sborone veneto sei più parsimonioso io che sono genovese invece che dovrei da diceria invece ho sempre avuto le mani bucate però ho imparato poi ho imparato sulla mia terra beh per fortuna comunque ho speso molto nel vino tu lo sai che nel vino non mi tiro mai indietro ho sempre bevuto molto bene ho sempre lavorarsi lavorare molto e divertirsi è una condizione molto molto importante per me insomma lo sai benissimo che ci si ricarica dopo lo so lo so infatti noi passiamo volentieri tempo insieme esatto noi vi aspettiamo veramente con Roberto con un intervento suo straordinario il 24 23-24 di ottobre ma il 21 alle ore 21 21 settembre praticamente spiegheremo un po' tu spiegherò tutta quanta tutti quanti gli ospiti chi sono di cosa parleranno eccetera quali affinità avete in termini di chiave di successo noi due beh che ci fidiamo uno dell'altro e ci consigliamo il meglio cioè abbiamo un grado di intesa e di rispetto e di coerenza tra le nostre due figure molto alto che non è banale non è banale cioè io ho l'umiltà di dire a Roberto ho questa cosa e Roberto ho l'umiltà di dire nel business Mirko tu cosa faresti per sta roba qua quando vi trovate un amico uno scambio così c'è un arricchimento che vale sempre doppio, triplo, quadruplo la vostra somma non so se Roberto se mi accorgo sì questo è un po' noi siamo un po' a volte il coach lui dell'altro però credo che a livello di affinità in termini di mentalità abbiamo un sacco di cose una di queste è sia io che Mirko siamo assolutamente due problem solver cioè c'è un problema ok cosa si fa dov'è la soluzione e la mentalità è che c'è sempre un modo c'è sempre la possibilità di farlo abbiamo in comune la capacità di capire il cambiamento e di abbracciarlo e di non fare resistenza abbiamo in comune la passione l'energia con cui facciamo le cose e anche l'attenzione agli altri una cosa molto bella di Mirko è insomma è il tipico imprenditore che si preoccupa dei suoi collaboratori si preoccupa dei suoi clienti non a caso infatti poi alla passione per la formazione dove in teoria perché adesso vediamo gente che fa formazione per puppare alla gente il più possibile però in teoria dovrebbe essere l'attività un'attività totalmente basata su dare se non sei uno che ha questo tipo di atteggiamento non lo farai mai nel modo giusto e non arriverà mai al coro delle persone assolutamente la prova del vino per il partner di business è sempre valida mi scrive Andrea Bonino questo Andrea mi segue evidentemente allora spieghiamo a tutti cos'è la prova del vino perché è giusto renderla di pubblico dominio la prova del vino è molto semplice se voi riuscite a bere parecchio con un partner parte di business eccetera a un certo punto tutte le barriere scendono e questa persona è inevitabilmente quello che è dentro quello che è veramente la prova del vino è sempre una grande poca se trovate un astemio non riuscirete mai a fare la prova del vino ma vi posso assicurare che la prova del vino mi ha fatto evitare queste sono tecniche di management venite questa l'insegna all'università di Venezia a management c'è un corso specifico unico al mondo poi c'è c'è anche il dottorato con la grappa ma quello proprio si sa a livello superiore cioè si parte dallo spritz e si arriva fino a Fabrizio Nardin ti chiede qualche aneddoto sul povero Marco De Veglia allora guarda io Marco abbiamo sempre avuto un rapporto allora io l'ho sempre molto rispettato mi è sempre piaciuto molto suono di pensare la sua genialità l'altra cosa che era oggettivamente difficile fare con Marco era lavorarci insieme perché era era inaffidabilissimo cioè partiva con grande entusiasmo poi come tutti i genioidi quindi quindi insomma ho avuto però però a me lui è sempre piaciuto e mi è sempre piaciuto soprattutto la sua testa il suo modo di pensare il suo non essere convenzionale il suo non farsi prendere in giro anche da vorrei dire da 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 quello insomma che tende a infinocchiare la maggior parte delle persone ecco mettiamola così quindi una testa una testa fina mi chiedono come fare a frequentare le persone giuste no e io Roberto ho dato un consiglio molto semplice maestro sei tu sei tu il maestro no appunto gli dicono dovete scoprire cosa piace a una persona qual è una passione e dopo fare un'azione verso quella passione e dopo far la domanda la richiesta perché altrimenti non vi caga nessuno a questo punto di vista facciamo un esempio nel caso mio no io ovviamente ho una passione che è quella di fare educare i bambini che io non ho avuto nella vita no cioè questa onlus mariana eccetera se tu mi domandi di fare un mentor si ti dico no perché non ho tempo ma se tu mi fai un bonifico la mia onlus mariana e poi mi dici guarda che ho fatto possiamo fare un dieci minuti insieme non mi tiro indietro cioè se voi trovate una passione o trovate un imprenditore che ama il ciclismo comprate la maglia di 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 qualche ciclista di coppi che ne so e comunque e comunque poi fate l'azione questo non si tirerà indietro non si è una tecnica infallibile perché questa è l'unica angolo d'attacco per frequentare una persona che mai potreste frequentare l'alternativa è essere nei giri giusti essere insomma nella cerchia di persone che frequenta questo questo imprenditore o l'altro imprenditore gli imprenditori sono molto occupati e quindi è molto difficile che siano contattabili anche se guardate su linkedin o altro non vi risponderanno ma perché giustamente oggi tutti sono accessibili a tutti quindi sarebbe impossibile gestire questa è una tecnica molto molto semplice che 9 su 10 vi dà la possibilità assolutamente quindi allora vi ricordiamo che segnatevi iscrivetevi al webinar gratuito del 21 di settembre alle 21 dove parlerò di tutti i 15 componenti della squadra del 23 24 ottobre roberto guest veramente è una star perché lui sarà avrà sicuramente il suo spazio e farà una delle sue performance saranno due giorni dove daremo tanto valore daremo tanto valore tante informazioni come sempre una delle altre caratteristiche di me e di roberto che non non siamo dei fatturatori non siamo di quelli che fanno partire il tassametro diamo 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 ovviamente dopo se comunque si entra a lavorare insieme evidentemente missionari non siamo però non ci siamo mai tirati indietro nel dare nel condividere nel creare valori insieme due giorni sono veramente veramente importanti Roberto ti ringrazio scrivete a proposito Mirko mi permetti una cosa certo io la settimana scorsa ho tenuto tre serate di corso l'avrei visto se qualcuno mi segue sui social magari c'era magari c'era qualcuno qua che ci sta seguendo che c'era se ci siete commentate che mi fa piacere sono state tre serate ce l'avevamo chiesti con il mio team come possiamo ripartire fare una cosa forte eccetera eccetera e abbiamo detto dai non sai cosa facciamo una cosa non abbiamo mai fatto abbiamo fatto praticamente un corso in tre serate poi sono diventate erano tre ore l'una ma poi abbiamo sforato sempre per 15 20 minuti mezz'ora 10 ore di formazione che abbiamo dato gratuite in cambio solamente di una donazione che noi abbiamo raccolto per Don Mazzi tu pensi anzitutto abbiamo raccolto più di 30 mila bello sono contentissimi e la cosa è andata benissimo avevamo più di 2600 persone che si sono registrate quindi insomma è stata una cosa molto bella le tre serate sono state fichissime abbiamo deciso visto che è una cosa buona è fatta per il bene abbiamo creato praticamente un gruppo facebook al quale hanno accesso solo le persone che si registrano che fanno la donazione dove le tre serate di corso quindi tutto il programma è registrato e rimarrà lì fino al 30 di settembre quindi se mi permetto di dirlo perché sembra una cosa per beneficenza so che su questo è sempre sentibile e in più è una cosa proprio bella devo dirvi sono 10 ore di formazione se vi prendete due ore qua due ore là o in un weekend veramente è stato fighissimo ed è un l'abbiamo proprio chiamato Restart poi giocando sul mio cognome Restart la ripartenza perché per ripartire adesso dobbiamo avere veramente la testa giusta la testa vincente la capacità insomma di di avere alcuni strumenti in più quindi se volete trovate guardate direttamente visto che mi state seguendo su Instagram qua se andate su Instagram sulla mia bio c'è proprio il link facilissimo cliccate fate una durazione minima di 20 euro poi da lì in su potete fare quello che volete sono state persone straordinarie che hanno donato 100 200 300 euro però da 20 euro in su l'avevamo fatta a 10 adesso l'abbiamo alzata a 20 per i ritardatari fatela fatela sicuramente però è una cosa buona ma per una buona causa ma soprattutto con 20 euro avete un valore di centinaia di euro perché vi garantisco state 10 euro di un valore enorme è un bel programma fatto lo potete fare insieme ai vostri qualcuno scrive insieme ai vostri figli insomma mettete lì ve lo guardate è bello oggi del poter volare online anche questo è uno dei vantaggi di poter usufruire di cose che prima richiedevano viaggi dispendio di tempo e di energia averle a casa come vuoi quando vuoi on demand come si dice al giorno d'oggi molto bene Roberto grazie della tua ora ci rivedrete insieme il 23 il 24 ottobre segnatevelo sul vostro calendario al preditore master e sarà sicuramente un'occasione molto interessante grazie a tutti ciao Mirko un bacione a tutti ciao Roby ciao ciao